Nonno, stavo dicendo, stanotte ci ho pensato, perché il vostro sapere vi vuole bene, e mi è venuta un'idea, forse, per far uscire di galera vitellozzo. No, può essere. Grazie, Mario. No, che grazie, Mario, io dico, stanotte, nonno, no, Mario, io dico, ci ho pensato, e mi è venuta un'idea, forse, naturalmente, di parlare con una persona per far uscire di galera vitellozzo e per star meglio tutti. Sì. Grazie, Mario. Eh, grazie, Mario. E che è, grazie, Mario.